Aiuto! Sopo ciao, aiuto! Cosa? Siamo qui sotto! Ma dove? Qui, qui! Ma ho capito qui, ma qui dove? Qui nelle tasche, pezzo di idiota! Nella tasca... Oh no! Alleluia! Aiuto, ci siamo incastrate! Ma di nuovo, ragazze, è sempre la stessa storia! Eh, mica lo facciamo apposta! Infatti, è colpa dell'omino delle tasche! L'omino delle tasche? Eh sì, è un uomino che vive nelle tasche! E si diverte ad annodarvi! Ma per favore! Ma è la verità! Ma non è che per caso siete voi che non sapete cosa fare e vi divertite ad annodarvi? Ma sei scemo! Per chi ci hai preso? Ecco, ma perché tutte le cose ce l'hanno con me? Ma perché sei un... Scemo! Finitela, o vi giuro che vi taglio i cavi! No, 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 oh, calmo! Scusa, c'è che stai tutto il giorno in tasca e un po' ci annoiamo! Ok, dai, perdonate! Adesso vi slego! Eccoci qua! Ascoltiamo un po' di musica? Sì! Aspetta! Cosa c'è adesso? Hai lavato le orecchie? Pff, ovvio! Mica tanto! L'ultima volta sembravano il culo di una moffetta! Che esagerata! Comunque tranquilla, le ho lavate! Ok, e metti bella musica, mi raccomando! Tranquillo, ho proprio qui una bella hit fresca fresca di YouTube! Alfa, alfa, alfa! Grazie a tutti.